30 dicembre 1989. Muore a Roma a 79 anni il filosofo cattolico Augusto del Noce. Formatosi nell'ambiente culturale torinese, aderisce all'antifascismo. La sua ricerca filosofica affronta le cause e le conseguenze della crisi della civiltà contemporanea, a partire dal rifiuto della secolarizzazione del cristianesimo, che Augusto del Noce ritiene inconciliabile con il marxismo.